Fuori dalla farmacia Vettere, perché? Perché cosa? Per consegnare una targa. Allora, gli amici della motopasseggiata montagutese, buongiorno, siamo in via Pepe. Per consegnare la targa, come leggete, al farmacista, l'amico Dario, a sorpresa, vai, entriamo e consegniamo. Sponsore principale, mai sconto. Dai, andiamo dentro, andiamo, 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 andiamo. Buongiorno, c'è nessuno? Buongiorno, c'è il farmacista? Oh, c'è il farmacista, c'è il farmacista, c'è il farmacista, c'è il farmacista, buongiorno. Vieni un attimo da qua dal balcone, farmacista. Buongiorno, eccoci qua, allora. Buongiorno. Non siamo venuti a ritirare oggi. Ma siamo venuti a consegnare al nostro mitico farmacista, dottor Dario Vettere, questa targa per la sua generosità, come recita, perché è stato lo sponsor principale della motopasseggiata. Grazie. Con tanto piacere la consegno insieme agli altri amici. Grazie. Vai Alessandro. Vai Alessandro. Eccoci qua. Benissimo. Alessandro, Alessandro. Facciamo. Dai, dai. Ci siamo tutti? Metti, metti pure la... Flash. Ole. Sembra una quasi persona seria. Incredibile. That's incredible. Ok. Signori, allora appuntamento. Abbiamo concluso la decima appuntamento. Vediamo un po' quello che si può fare. Intanto poi tra un po' le foto di questo soggetto qua, che vedete in sovraimpressione, sul sito, che saranno online, esatto, tra pochissimo, insomma, faremo vedere tutti gli scatti fino ai laghi di Monticchio, un po' di un percorso un po' particolare quest'anno, un po' diverso rispetto agli altri anni. Lungo e articolato. Però è andato tutto bene, no? È stato una motopasseggiata piacevole, insomma, senza problemi, senza intoppi. Facilienti, piccoli inconvenienti facilmente risolvibili. Perfetto. È andato tutto bene. Soddisfatti quindi? Assolutamente sì. Perfetto. Assolutamente sì. E allora appuntamento tra un paese al massimo un giorno. Un messaggine molto simpatico di un partecipante che ci scrive come ogni anno, ottima organizzazione quest'anno vista dal vivo all'anno prossimo. Eccolo qua, vediamo se riusciamo a inquadrarlo. Eccolo qua, come ogni anno, ottima organizzazione quest'anno vista dal vivo. Perfetto. Ok, signori, grazie mille. Salutiamo anche... Un saluto a tutti gli amici. Grazie a Dario. E salutiamo anche l'amico Dario. Ciao. Ciao.